Noi umani abbiamo trasferito per secoli animali e vegetali da un ecosistema all'altro, senza però prevedere appieno le conseguenze di questo nostro gesto. L'introduzione di specie aliene è considerata a livello planetario una delle principali cause di perdita della biodiversità. Per ripristinare l'equilibrio preesistente c'è bisogno di mettere in atto azioni lunghe e complesse. Il progetto Life Ponderat ha come obiettivo il ripristino dell'equilibrio dell'ecosistema nelle isole ponziane. Una delle azioni del progetto Life Ponderat è proprio la rimozione dei ratti che con la loro predazione mettono a rischio la sopravvivenza delle berthe, che sarebbero i nostri albatros che nidificano anche nelle isole ponziane. Pensate che le berthe fanno un solo pulcino l'anno, mentre i ratti in un anno possono mangiare parecchi pulcini e questa è una seria minaccia per il futuro delle berthe. Una particolarità del progetto è che per la prima volta queste azioni sono attuate in un'isola abitata e con un importante flusso turistico. Il progetto però guarda anche al futuro. Per mantenere i risultati è necessario mettere in atto azioni che impediscano il ritorno dei ratti. I ratti sono una minaccia per le berthe, ma la loro presenza può essere problematica anche per noi umani, sia perché sono onnivori e prolifici, ma soprattutto perché possono essere portatori di malattie.